Il concetto di tutto questo discorso è cercare di sfruttare sempre il materiale che abbiamo al massimo, di spremerlo ed è quello che accennavo prima, il timing, il timbro, la velocità, i colori che ci vogliamo mettere intorno alle note perché alla fine, come abbiamo detto anche all'inizio, è un fa e un la, se gli cambiamo timbro mettiamo un timbro sbagliato, il clavicembalo, che cavolo è? Sì è bellino ma non dice più nulla, sentite non crea più nessuna tensione quindi imparare appunto a sfruttare il materiale cercando di raggiungere lo scopo senza attingere ad altro materiale in quel momento poi se proprio non ci riusciamo aggiungeremo roba se ci sembra il caso però è quello che voglio dire io, è il creare una tendenza nel modo di lavorare perché secondo me, e chiudo qui, in questa epoca soprattutto c'è un sacco di musicisti che siccome sono tecnicamente molto preparati, anche tra i trombettisti questo e gente che può fare molte note al secondo, sembrano mitragliatrici si rischia delle volte di perdere questi aspetti del discorso, ok? e di andare a fare numeri da circo, che francamente anche no ciao